Sulla vicenda giudiziaria che riguarda Elio Sannicandro, fino a ieri direttore generale Asset, commissario per il dissesto idrogeologico della Regione Puglia e direttore generale del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, si inserisce la nomina da parte del Presidente della Regione, Michele Emiliano, del generale della Guardia di Finanza in cui Escenza, Salvatore Refolo, a nuovo commissario Asset. La sospensione dai pubblici uffici di Sannicandro per un anno dovrebbe, insomma, velocizzare anche la vicenda del nuovo Comitato di Gestione dei Giochi del Mediterraneo. Come si sa, questo è rimasto l'unico problema ancora risolto e sul quale stanno lavorando Governo e Regione, trovando proprio nel nome del direttore generale alcune perplessità ma anche frizioni. Ora, nominato il nuovo direttore generale, si dovrà andare velocemente ad appaltare i lavori già inseriti nel masterplan predisposto dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, già inviato a tutti gli enti interessati e già condiviso dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.